Abbiamo declinato gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile in una chiave tecnologica, ma con un'idea diversa. Abbiamo parlato di FabLab, del FabLab del Santa Chiara Lab. FabLab significa laboratorio di fabbricazione digitale, dove si fabbricano delle soluzioni che sono individuali, che sono per la persona e si fabbricano con un concetto nuovo, un concetto che dice che le tecnologie possono essere appannaggio di tutti e che sono semplici da utilizzare e che producono soluzioni che sono davvero sostenibili.